Almeno per un giorno la Triestina potrà pensare solo al calcio giocato, sperando che la partita di Salò dia una boccata d'ossigeno a tutto l'ambiente, anche se l'ok per prelevare i soldi necessari alla trasferta è dovuto arrivare dal PM Federico Frezza e si parla già di un commissario per il futuro dell'Unione. Ad ogni modo del rischio di fallimento se ne riparlerà lunedì, quando il presidente Aletti si presenterà in tribunale. Mister Galderisi in questi giorni ha fatto di tutto per tenere alto il morale del gruppo, anche se più di qualche giocatore non ha nascosto il proprio sconforto per la situazione societaria, come nel caso di Lima, che è appena ritornato a Trieste e non certo alle prime esperienze, da giorni viene ospitato dai compagni di squadra perché la società non è riuscita a trovargli una sistemazione. Nell'allenamento di ieri la sua preoccupazione e la stanchezza accumulata è sfociata in un pianto liberatorio e a Galderisi è toccato il ruolo di papà più che quello di allenatore. Se Lima non ce la farà scendere in campo, in difesa è pronto Gissi per fare coppia con Izzo, per il resto la formazione è confermata, con viotti fra i pali, Tombesi e Galasso Terzini, la coppia Allegretti-Princivalli a centrocampo, mentre dietro a Godeas ci sarà il terzetto di tre quartisti, formato da Rossetti, Curiale e Motta. L'avversario e il fanalino di coda farà il pisalò e nonostante la gara, non certo di cartello, un manipolo di tifosi sarà presente nella località del Lago di Garda, una grande dimostrazione di affetto per la squadra in un momento così difficile.